Partita la finale ed è Marsili che si è affrontato in una testa forne a Cremaschi, poi Piergigli. Marsili, Cremaschi, Piergigli. Eccoli al passaggio. Con Marsili in testa, ora al passaggio sarà suono della campana. Buccio Marsili, poi Cremaschi, poi Piergigli, poi Angeletti, poi Sorinari. Ed è Buccio Marsili che annunca con Cremaschi in seconda posizione e Piergigli in terza. Il bravo della neta pubblica, il signore Cremaschi e Angeletti. Buccio Marsili.